salve a tutti signori io sono lorenzo e questo è il mio canale espertoni benvenuti bene oggi di cosa andiamo a parlare andiamo a parlare del rischio come riscaldare la casa e in questo caso vi parlo della mia casa che è una casa vecchia perché una casa comunque degli anni 50 ed è una casa molto grande sono più di 300 metri quadri che sono divisi in due piani abbiamo 18 termosifoni abbiamo una casa che comunque con isolamento abbiamo cambiato tutti i serramenti abbiamo messo tutti il vetrocamera abbiamo fatto l'isolamento sul tetto un insufflaggio di 40 centimetri e le pareti sono ancora in pietra e quindi comunque non è isolata in classe a dove ho voluto migliorare ho cambiato la pompa di l'ho cambiato la mia caldaia non ho messo una pompa di calore perché ancora per le altre temperature non lo so abbiamo messo una caldaia a condensazione tutte le termo valvole su tutte quante i termosifoni in modo da regolare a ogni stanza la sua temperatura la camera da letto su una temperatura la cucina su un'altra il bagno su un'altra ancora bene e cos'è che voglio farvi vedere e voglio capire anch'io perché voglio fare questa analisi qua grazie alla caldaia che ho installato che una visma un vito dance 200 quindi 24 kilowatt di potenza voglio andare a programmare la caldaia in modo che vedere le differenze che c'è tra tenere la caldaia accesa 24 ore su 24 quindi termosifoni accesi 24 ore su 24 oppure cambiarla dal giorno alla notte cosa significa adesso farò questa settimana qua che interrompo il mio le mie temperature di notte alle 10 di sera provo a bloccare i termi e riaccendere alle 5 di mattina la settimana prossima proverò a fare il cambio cioè lasciare accesa 24 ore su 24 sempre al minimo perché questo per vedere se conviene un sistema o un altro spero che il tempo si mantenga sempre su queste temperature in modo che i dati sono più reali possibili e il confronto sia più reale possibile quindi andrò a prendere una settimana un'altra settimana grazie alla caldaia che ho installato che appunto come vi dicevo la visma posso analizzare quanto sono i consumi giorno per giorno ora per ora e anche vedere la temperatura esterna perché lei si regola in base alla temperatura che c'è esterna la temperatura più alta è meno lavora e più bassa e più lavora perché ci sono delle varie temperature comunque adesso andiamo a vedere nel nostro grafico non lo so perché certi dicono meglio tenerla accesa tutta la notte sempre al minimo che lei lavora lì o se a chiuderla e fare risparmiare quelle ore di lavoro però poi devono recuperare io penso che alla fine il comfort che c'è all'interno della stanza mantenuta calda sempre sia diverso dal comfort di una stanza che ogni tanto dobbiamo abbassiamo la temperatura poi la rialziamo e questo si creano dei flussi d'aria fredda che sono un po fastidiosi comunque voglio vedere che differenza c'è e ve la voglio raccontare adesso andiamo a vedere un attimo la caldaia e poi vediamo come funziona bene eccoci qua davanti alla nostra caldaia come vedete è in funzione in questo momento e innanzitutto le funzioni che ha qui posso vedere che sta lavorando a 54 gradi come temperatura e qui possono fare i vari programmi quello che voglio farvi vedere io è che possiamo comunque andare a vedere le informazioni del bruciatore vedete adesso lui sta modulando 8,8 per cento che cosa significa che sta sfruttando dei suoi 24 kilowatt di potenza l'8,7 per cento questa mattina quando si è accesa ho visto stava andando a 67 per cento allora si poteva vedere anche la potenza del bruciatore se non sbaglio in generale ecco qui vedete potenza termica 2 kilowatt questa mattina quando l'ho accesa stava sviluppando una potenza termica di 16 kilowatt 16 17 andava e vedevo che comunque stava consumando tantissimo perché possiamo andare a vedere anche i nostri consumi quello che voglio vedere io è che questa modulazione del bruciatore che adesso sta andando al minimo perché al 9 per cento arriva anche al 3 per cento 4 va a giustificare appunto quel discorso che dicevo se mantenerla sempre al minimo quindi che consumi il 18 9 per cento che quindi modula o se fai di fare queste botte alla mattina di 70 80 per cento della sua potenza e poi ridurla e poi riaumentare poi ridurla poi riaumentarla voglio capire se è meglio fare una cosa o meglio far l'altra io adesso ho messo vedete qui nelle mie impostazioni posso mettere temperatura ambiente valori nominali quindi è ridotto adesso ho messo 16 gradi di notte così non si accende normale o comfort a quanti gradi è quando metto in comfort ho messo 20 gradi non so come fa lui lei tramite dei calcoli dell'acqua di andata e di ritorno riesce a mantenermi la temperatura a 20 gradi i termostati io li lascio programmati sempre che alla notte si spengono e poi si riaccendono la prossima settimana cambiamo le impostazioni qua posso vedere programmazione oraria rete ho messo che si accenda alle 5 fino alle 10 di sera poi resta spento e vedete qua tutto grafico lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì eccetera da qui possono vedere la curva del riscaldamento quello che vi dicevo prima lei ha un sensore esterno che mi dice quando ci sono 10 gradi io mando 45 gradi quando ci sono 0 gradi esterni la mando 62 più bassa è più alta la temperatura e quindi logicamente consumerà di più questa inclinazione io posso regolarla in base adesso io ho un termosifone quindi tutto ad alta temperatura ma se avessi l'impianto di scaldamento a pavimento potrebbe abbassare questo anche a 1 e 2 1 in modo da consumare meno ecco qui vedete io posso vedere la pressione dell'impianto la temperatura esterna che quello che vi dicevo prima quindi in base alla temperatura esterna lui regola anche la temperatura rimandata i vari valori in questo caso la potenza termica è 2 kilowatt veramente poco si sta proprio andando tranquilla l'ora e tutto quanto dall'applicazione andremo a vedere poi i consumi reali di una magari di una settimana del giorno e e vedere come funziona meglio eccoci qua è passata una settimana oggi siamo domenica 3 dicembre e siamo verso le sei di sera e quindi andiamo a vedere cosa è successo durante la settimana che è successo di tutto questa settimana qua perché c'è stato freddo poi caldo poi freddo pioggia tanta pioggia è un caos bene allora io vado sulla mia applicazione qui vicar che l'applicazione appunto sua della nostra caldaia vediamo che fuori ci sono 5 gradi virgola 1 andiamo a vedere il consumo di gas che c'è stato questa settimana qua quindi io vado su settimane e vediamo che abbiamo consumato 68,5 metri cubi al momento la settimana inizia sempre di lunedì quindi quando faremo il video di conclusione sarà lunedì o domenica sera prossimo adesso vediamo un attimo come fare giorni vedete allora domenica che non c'entra perché ormai era già passata lunedì abbiamo consumato quasi 12 metri cubi 11 10 11 e 9 venerdì che è stato quella giornata di brutto tempo insieme al sabato ma sabato è stato bruttissimo ma c'erano 16 gradi di temperatura comunque adesso andiamo a vedere e oggi che c'è stato freddo e fino adesso abbiamo consumato 7 cubi di gas il se io vado a vedere il sensore di temperatura esterna perché veramente ben fatta questa cronologia eccola qua vedete la temperatura abbiamo avuto la temperatura attuale 5,1 gradi la temperatura massima di oggi 8,1 minimo 4,1 la temperatura media è 7,2 gradi con la temperatura più alta che è stata ieri c'era un scirocco impressionante 17 gradi e 6 e 0,7 la minima questo era il grafico vedete io posso guardarlo giorno per giorno e quindi rendermi conto vedete che proporzionale a ieri c'è stato tanto caldo qui abbiamo avuto anche 17 gradi poi la sera siamo scesi a 5 gradi abbiamo consumato solo 6 o 7 metri cubi adesso non mi ricordo quindi adesso cosa dobbiamo fare noi dobbiamo cambiare le impostazioni della caldaia dobbiamo lasciare accesa tutta la notte quindi andiamo qui dove abbiamo le temperature ci vado programmazione per fasce vedete che la ridotta è a 16 gradi quindi io vado a cambiare la ridotta da 16 la metterò a 19 per la notte che basta ok poi andiamo a togliere le fasce orarie oppure le lasciamo così però con le temperature normale quindi siamo qui abbiamo una normale la comfort le lasciamo normale a 20 in modo che ci sia sempre 20 gradi in casa e 21 e 21 nelle ore che si mangia praticamente ecco a quel dove ci sono i cuoricini bene qui lasciamo 21 per comfort che i cuoricini l'altra normale mettiamo sempre a 20 gradi in modo e 19 gradi durante la notte in modo che le temperature non si abbassino di più perché io ho visto che queste notti qua quando andavamo a letto a mezzanotte luna e c'era o alla mattina quando ci svegliamo c'erano intorno ai 18 gradi 18 e mezzo e a volte siamo arrivati anche a 17 gradi logico che portare la casa da 17 portare a 20 gradi ci vuole tanta energia e tanta potenza se manteniamo la temperatura sempre sui 19 gradi anche di notte in modo che alla mattina non deve sforzarsi secondo me consumeremo meno oppure saremo lì ma il comfort della temperatura è veramente diverso e adesso andiamo a vedere come funziona bene ci rivediamo tra una settimana e ne riparliamo e eccoci qua signori bene oggi siamo domenica 10 dicembre sono le 4 al pomeriggio qui da noi c'è una nebbia assurda e anche una temperatura abbastanza bassa apriamo l'applicazione della nostra caldaia andiamo a vedere come è andata la settimana torno a ripetere abbiamo cambiato tutto quanto quindi i termini sono stati accesi 24 ore su 24 con le varie temperature 19 di notte e sempre 20 di giorno ho riscontrato subito che comunque la temperatura lasciando accesi termini sempre tutta la notte è molto più confortevole abbiamo una temperatura costante sembra che la casa sia più calda nonostante ci siano sempre quei 19 gradi e mezzo 20 e non non abbiamo più quel giro d'aria fredda che si accumula di notte che poi sappiamo tutti che l'aria calda tende ad andare verso l'alto poi si forma questo ciclo e questi venticelli di aria fredda fastidiosi non ci sono più sembra che la casa sia molto più calda come sono andati i consumi bene è stata una settimana particolare perché lunedì qui ha nevicato per un po le temperature sono state molto basse e anche durante tutta la settimana ma se andiamo a vedere che comunque lunedì assurdo nel senso abbiamo consumato 17 cubi di gas devo far conto che comunque ha una casa doppia come se fossero due case perché sarebbe due case a 150 metri quadri però abbiamo questa caldaia unica bene allora lunedì 12 l'altra settimana avevamo avevamo consumato 12 cubi di gas martedì avevamo consumati 11 qua martedì abbiamo consumati 15 allora diciamo che i giorni più uguali a quello dell'altra settimana era giovedì come temperatura freddi giovedì scorso abbiamo consumato 11 e 9 questo giovedì qua 11 e 8 poi venerdì che è stato abbastanza freddi 13 gradi e l'altra settimana avevamo avuto il venerdì con una temperatura di 17 gradi e 6 e una minima di 5 gradi quindi adesso se andiamo a vedere le temperature anzi prima vediamo le settimane infatti vedete che c'è una differenza abissale 72 metri cubi contro gli 89 quindi 17 cubi in più di gas ma sono dovuti anche le temperature che purtroppo non al tempo non si comanda e non ho potuto fare una una cosa uguale ci vorrebbero due due case uguali con due caldaie uguali e le stesse temperature stessa settimana però purtroppo così va il tempo allora bene andiamo a vedere quindi il le temperature del esterne e vediamo che in effetti la temperatura sia media che anche il vedete attuale 7 gradi e 8 temperatura medio 6 e 3 mentre la settimana avevamo 7 e 2 la temperatura più alta l'altra settimana avevamo 17 questa settimana 10 e 1 e 1 la minima vedete che le temperature si sono mantenute più basse guardate lunedì è stata veramente una giornata fredda con addirittura anche la neve che da noi non è solito venire bene signori quindi concludiamo così davanti al nostro termosifone e il nostro impianto di riscaldamento e cosa voglio dirvi che conviene tenere i termini accesi sempre o no allora per quanto riguarda il comfort secondo me ottimo nel senso che termini sempre accesi non si creano quei strani velli di aria fredda abbiamo sempre comunque una qualità molto alta il comfort termico secondo me cosa che non avevo mai fatto prima e per me si vanno sempre tenuti accesi consuma di più consuma di meno quello sarebbe da vedere con le stesse temperature e con la stessa modalità ma questo non si può fare perché ogni settimana il tempo cambia non è mai costante io credo che alla fine siamo lì come consumi quindi per quanto riguarda se siamo lì o anche un pochettino in più lasciate sempre i termini accesi così almeno la caldaia lavora meno e lavora meglio e non non abbiamo quegli sbalzi termici che danno fastidio e poi di notte magari ti svegli vai in cucina per bere qualcosa senti questa differenza per me i termini sempre accesi bene signori è stato un video un po lungo spiegato ho improvvisato un po dell'aumento improvvisato perché non sapevo neanche io come reagiva come come usciva questo video e quindi penso che è giusto così perché è reale non è una cosa il video non è né sponsorizzato non è dato da nessuno è venuto fuori di mia così un'idea anche per sentire i vostri commenti che spero che sotto qua mi commentiate il video e mi dite cosa ne pensate voi e qual è la vostra esperienza e se vi è piaciuto mettete un bel like iscrivetevi al canale che è sempre gratuito non dovete pagare nulla schiacciate il tastino iscriviti perché ho bisogno di tanti iscritti e attivate il tasto delle notifiche grazie a tutti e arrivederci grazie a tutti